La rete stradale oggi è un asset che di fatto nei libri dello Stato non vale nulla. Non è che lo Stato non abbia investito tantissimi soldi sulle infrastrutture. Fare emergere questo valore è un modo per attrarre investimenti sulle infrastrutture, in un momento in cui gli investimenti infrastrutturali costano al minimo rispetto agli ultimi 50 anni. Investire sulle infrastrutture, peraltro, consente il rilancio dell'economia fondamentale in questo momento.